allora ragazzi questo qui è immortalizer un atom da dripping filippino io l'ho preso negli stati uniti da elevated vaping scusate il mio inglese maccaronico è arrivato in circa due settimane ho scelto un metodo di spedizione molto costoso 50 dollari l'atomizzatore costava 95 quindi all'incirca 72 euro mentre ho pagato un bel po di spedizione ma lo volevo provare prima di partire per effetti atomizzatore da tripping quindi non per sistemi a bottom fider è composto essenzialmente da tre da tre elementi è arrivato un po non so se si vede un sbeccato in un semplice sacchettino di nylon senza nessun tipo di o ring di ricambio cacciavitino nulla in una busta comunque ben protetta prodotto filippino abbiamo detto quindi abbiamo io ho lavato tutto questo è il chiamiamolo top cap che ha un logo con il numero di serie 1980 già duemila pezzine non fatti vabbè questo sembra essere di acciaio anzi è di acciaio questo l'ho svitato nel senso giusto quindi senso antirario si svita poi abbiamo il questa parte qui che va svitato in senso invece e inverso cioè in senso orario questo perché aspettate che lo monto se non ce la faccio in senso orario ci ho messo un po a capire infatti all'inizio sono stato di un'ora a cercare di di smuoverlo è il è il pezzo forte fra virgolette che è la base come vedete la base ha due ha un un inserto questo inserto qui in in ceramica due forellini che portano l'aria alla wick che stanno su un che hanno un lieve diciamo rialzo credo per fare in modo che il liquido quando è in eccesso diciamo per la tensione superficiale tenda a non andare ad infilarsi nel nei bocchini e poi fuoriuscire qui per allagare il tutto penso sia stato studiato per quello abbiamo questi tre fori 1 2 e 3 si vedono si che e vanno a quando tiriamo pescare l'aria da qui è predisposto se si vede dovrebbe essere predisposto per i cavi flat resistenze quindi piatte o ribbon come come le chiamano e ci sono due vittini a stella da 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 mollare per montare la resistenza non l'ho ancora provato e volevo provarlo insieme a voi allora quello che intanto posso posso vedere è che il queste due parti qui sono sì fatte in 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 acciaio mentre la parte che copre tutto che praticamente è un cilindro con la filettatura in basso e a solo due buchetti uno da parte e uno dell'altra due forellini che avranno un millimetro penso o anche meno di diametro e che permetteranno l'ingresso dell'aria quindi noi quando andremo a fare la resistenza qui andremo a mettere questo shield ovviamente da ruotare in senso senso contrario quindi come se lo stessimo svitando e poi questo va a chiudere tutto grazie a questo ring che c'è qua ora cosa succede noi tiriamo noi tiriamo da qui tiriamo l'aria da quei due forellini nella ceramica quell'aria lì viene praticamente incanalata da questi tre fori da questi tre fori distanziati in uguale misura 123 e vengono non so se si capisce meglio così e questi invece vengono alimentati l'aria dall'aria da questi due fori di questo di questa copertura allora una cosa che ho notato è che quando andiamo a mettere questo uno dei due fori giro sempre il senso sbagliato questo va girato in senso antiorario uno dei dei due forellini questo qui casca esattamente non so se si vede dentro nel corrispondenza di uno dei tre dei tre fori di di areazione non so se è voluto o se per puro caso vediamo un attimo come è un design molto particolare cioè particolare è filippino scanalature adesso hanno fatto delle mod con tutte queste scanalature ricorda un po la famiglia di affex ha un diametro molto particolare perché è un diametro di 20 mm quindi 2 cm ed è alto 25 è abbastanza pesantuccio non so quanto quanto può pesare io non ho delle mod filippine dove montarlo ma volevo provare insieme a voi a vedere come stava su alcune su alcune mod eccolo qua su ad esempio su ggts stelt mettiamoci un tip ecco non c'entra non c'entra nulla perché le finiture sono completamente diverse e proviamo a montarlo su sotto mano qui ho un fido nemesis qui forse sta meglio perché ci sono dei dei degli stacchi un po diversi proviamo a cambiare ho cercato dei tip che potessero abbinarsi un po così esteticamente così forse non è male sul nemesis e possiamo provarlo ad esempio a montarlo su un provari qua secondo me il design quello che io ho provato ho degli anelli per coprire il il cono superiore del provari e vi faccio vedere una cosa da stare attenti questo è un anello che avevo preso tempo fa non so da dove non so da chi ce ne sono un po in giro il problema di chi ha fatto questi anelli c'è il problema erano stati fatti per l'odisseus o per tubi da 22 comunque guardate cosa succede essendo 20 il diametro di distaffare qui immortalizer certi tipi di anelli non riescono andare a battuta quindi si sfigliano l'unico anello che tra l'altro beh fatto in maniera molto migliore di tanti altri se vedete la base di appoggio è un po più è un po più spessa questo spessore qui questo spessore qui è più largo del e quindi con questo adattatore qui con questo connetto qui che è il connetto del del gulliver di peppo è l'unico che sono riuscito a montare e tiene per chi odia il 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 top cap del provare ma neanche su provare non è non è ma l'altro non è neanche il massimo esteticamente secondo me poi con altri drip tip non so se migliora vediamo come ci arriva l'apice della potenza da schifezza io l'ho preso su consiglio di un caro amico andrea mi sono fidato ultimamente ho imparato a fidarmi di più degli amici che hanno già provato varie cose e niente io di atomizzatori di dripping ne ho provati diversi molti cinesi non cinesi filippini non filippini americani perché io per un anno e mezzo sono stato un grande fan del del dripping che secondo me era uno dei dei miei modi di svappare preferiti igienico non c'era liquido il bottom field che andava avanti e dietro per l'atomizzatore io ho tripato per più di un anno per più di un anno ultimamente invece ho trovato che i sistemi tipo ufs original abita cacai fun sono molto più versatili come capienza di liquido molto più comodi però un atomizzatore da dripping anche per chi non drippa secondo me è sempre da avere per almeno per provare liquidi diversi senza andare a buttare via soldi e soldi per per rigenerabili per atomizzatori standard vi faccio vedere un paragone ad esempio con il ciclione cyclone non so come come si dice è parecchio più grande questo ad esempio è il il corrispettivo con la regolazione dell'aria del ciclione che si chiama ciclope a faccia da fantasia pippe e siamo siamo così lì come ingombri e questo non è la regolazione dell'aria ma se io provo così a tirare senza neanche provarlo sembra un tiro molto duro adesso andiamo a fare una resistenza mi sono ripromesso di fare un video più 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 stringato e quindi a breve la resistenza ecco ho preso un cavo flat piatto da 0 3 per 0 1 cantaldi e ho fatto 6 spire e non ho montato la resistenza parallela a queste due colonnine ma le ho montate le ho montate a resistenza parallela ai due frullini che ci sono sotto poi sono andato qui con queste pinzette e ho alzato diciamo la resistenza da di circa un millimetro non di più qua ho messo quattro anzi tre 3 wick da un millimetro vediamo cosa succede non sono andato su fili troppo grossi perché volevo una resistenza abbastanza alta per poter vedere anche la resa aromatica diciamo di di questo affare qua allora tolgo la ribbon in eccesso la camera di questo attrezzo se andiamo a vedere è molto ridotta è veramente molto molto ridotta niente qui ho fatto 6 spire io lascerei questi affari qua non so come andranno dentro piegati da una parte lascerei così un paio di centimetri da una parte e un paio dall'altra vediamo cosa succede ecco vediamo vediamo coi provari dai vediamo cosa legge il provari allora qua avevo un valore molto alto le porto giù per evitare di brustole arduto allora 3,7 mettiamoci già un bel conetto un bel conetto di peppo 99 e vediamo vediamo cosa legge di resistenza senza perché op forse troppo bassa io non mi ricordo mai i codici errori di provare adesso sembra che tocca qui atto ma 1,9 un valore desiderabile per quello che volevo fare io e niente qui per rodare boh andiamo a metterci un po' di liquido no una cosa non ecco no ecco 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 Io ultimamente bagno da lontano un po' anche sull'Itaca, le wick attivo e soffio, diciamo per pre-rotare un po' gli atomizzatori rigenerabili, vabbè andiamolo a chiudere, quindi mettiamo qua, in senso anti-orario abbiamo detto, quindi chiediamo dentro sta roba, ok, e vediamo di infilare questo, mettiamo dentro le 6 coil, le 6 wick e vediamo se riusciamo a chiudere questo a fare, ok, spingiamo dentro le wick, una da parte, una dall'altra, e vediamo come si comporta questo attrezzo qui, alzo la telecamera, eccomi, sono riuscito a mettere l'anello di Peppo sul provare, ho messo un tipo un po' più lungo, e questi sono i primi tiri che facciamo, quindi adesso la resistenza è, quanto si legge? 2, e lo mandiamo a 3,8, tutto, la configurazione è tranquilla, sono i primi tiri eh, si sente che il sapore è un po' della wick che non ho trattato come il mio solito, facendola bollire con, con il in acqua con un po' di limone, per me il tiro è ancora curioso, ma io sono un tipo molto particolare, vorrei avere un tiro ancora curioso, ma io sono un tipo molto particolare, vorrei avere ancora più duro, ma vi assicuro che è duro, non c'è possibilità di regolarlo e a molti darà fastidio questo ovviamente è ancora troppo presto per, per esprimere un giudizio, se il fatto di aver questa ceramica in basso possa aiutare o meno, solo il tempo ce lo dirà, comunque potrebbe benissimo rimpiazzare un atom, eh, tradizionale, per, secondo me, eh, così, a prima, prima impressione, a sostituire un atom tradizionale per, per provare i liquidi ad esempio, magari con una wick ben rodata prima a solo pg, e poi con il liquido, per sentire bene l'aroma ho lasciato poca wick, ho messo tre fili, potevo metterne anche quattro, di solito metto quattro fili nel nell'Ithaca e quattro fili da 1 oppure i due fili da 2 vediamo vediamo se riusciamo ad allagarlo 1,2,3,4,5,6,78,9,10,120,12,15,20 1,2,3 e 4,5,6,7,8,9,10 Boh, ci sono 30 goccine qui dentro Gorgoglia ma non viene su niente E dai forellini neanche Non esce niente Vediamo quante tirate facciamo Quante tirate soddisfacenti Meno vapore perché la wick Troppo intrisa di liquido Preferisco quando va più a secco Grazie Vediamolo sul meccanico dai C'è ancora quelle 30 goccine Ho dovuto serrare Abbastanza Perché facesse contatto con L'anello di Peppo Adesso metto una batteria più carica Quindi andrò anche Sì 4 e 2 Qui è perso un po' E' un po' umido Voi bocchini Non è legato Vediamo Nemesis 18 350 Ma non è male dai Vieni fuori un stranzettino così Comincia ad andare un po' Più a secco Come piace a me E fa più Un bel vapore Vieni fuori un po' Grazie a tutti. Le wiki in alto dovrebbero pescare il liquido. Sono ancora con quelle trenta gocce. La camera piccola e la ceramica sotto dovrebbe mantenere il vapore caldo all'interno, un ambiente caldo, e rilasciare, diciamo, mantenere più l'aroma. Ora, peccato questo diametro, a questo punto potevano farlo da 22. Pesantuccio, eh? Comunque. Non scalda tanto da fuori. Anche se lo sto... Torchiando, diciamo. Mettendo sotto torchio. Non ha fallito le mie aspettative. Sta cominciando a andare al regime. Sì, diciamo che 108 euro per tre pezzettini di metallo. Metallo. Vabbè. E ancora un bar secco, eh? Ma il tiro è giusto, dai. Ci si abitua. Niente, dai. Non voglio fare dei video prolissi. Mi sono impegnato a farli più corti. Quindi, direi che... Direi che, per ora, penso che, come rigenerabile dal dripping, soprattutto per l'uso che ne faccio io, cioè provare i liquidi, prima di svilupparli in altri sistemi. O anche per delle brevi, diciamo, sedute di sviluppo, così, con dei liquidi particolari, potrebbe essere una buona soluzione. Per chi invece ama il dripping, io penso che così le prime impressioni sono estremamente positive. Per adesso, io credo che così, in due minuti mettendolo al regime, penso sia il migliore di quelli che ho provato. Se la batte un po' forse con l'Odysseus in versione dripping, però questo vince sicuramente per facilità nel fare la resistenza, siccome non ha bisogno del filo non resistivo. E come... come design può o non può piacere... A me piace più l'Odysseus, ad esempio, la versione del dripping o il dripper spiral o quella famiglia lì, insomma. Ma aiutatemi a tutti, perché io volevo una cosa veloce da rigenerare e che abbia una buona resa aromatica. E qui già si sente pur con una wick non preparata. Un bel attrezzo per... per questi pochi minuti. Mi piace anche che non scalda tanto. Deve essere questo doppio strato di alluminio che forse dissipa il vapore meglio. Boh, è esterno. E' anche una resa abbastanza costante per essere un rigenerabile. Proviamo a tappare un buchino e a soffiare nell'altro. ... 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